Ciao, sono Katia di Euroatria, in questo video vi presento completo antincendio boschivo. Elmo modello WFU-R Evo colore rosso, tra i più leggeri e sicuri della categoria di tipo B protezione integrale EN443, calotta realizzata in materiale termoplastico composito, sottogola a 4 punti regolabili con fibbia di sgancio, coperture del sottogola resistenti alle fiamme, schermo oculare in materiale termoplastico e schermo faciale metallizzato in materiale termoplastico, protezione nuca in tessuto alluminizzato, portalampada, taglia unica regolabile da 52 alla 64, come optional si possono aggiungere bande riflettenti per aumentare la vostra visibilità. Tutta, modello FR98 di Porto Est, costruita con un leggero tessuto antifiamma, offre una protezione inifuga garantita per tutta la durata del capo, giallo-argento riflettente per una maggiore visibilità, banda riflettente inifuga cucita premium, protezione del ginocchio riforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata, zip a doppio verso, tasche ampie, peso 280 grammi, il tessuto blocca il 98% dei raggi UV, norme EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 15614. Guanti Flame, realizzati con tessuto metà aramidico e pele fiore idroreppelente, rinforzi sulle nocchie e salvavena, tutte le cuciture sono in filato di Kevlar, norme EN 388, EN 407, EN 659. Stivali modello hydrant, normativa EN 150-90, tomaia, pelle fiore inifuga idroreppelente, fodera esterna in pelle traspirante, suola interamente in gomma nitrilica resistente a più di 300 gradi per contatto di un minuto, puntale acceio resistente a 200 joule, bande laterali per migliorare la visibilità, cuciture inifughe, imbottitura nella zona di flessione della tomaia, protezione della caviglia da urti accidentali, tirante in pelle. Per maggiori informazioni su questi prodotti, cliccate il link in descrizione o contattateci, seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina delle notifiche, così da non perdere le prossime novità. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. A presto! Grazie a tutti!